L'Otaro raggiunge Milito in A, siamo sulla strada giusta. Il gol contro la Salernitana porta il Toro a quota 62 gol in Serie A, gli stessi segnati da Milito con la maglia dell'Inter, andremo a festeggiare insieme a cena. Ciao tifosi dell'Inter, benvenuti nel canale delle news dell'Inter, iscriviti e lascia il tuo like per ricevere le news dell'Inter. Un gol dei suoi, un destro violento da fuori area. Una grande esultanza, l'abbraccio di San Siro. E una partita piena di corse, rincorse, giocate. L'Otaro show, ancora, dopo la grande prova del camp no. Il Toro segna il quinto gol stagionale ma soprattutto arriva a quota 62 reti in Serie A con la maglia dell'Inter, agganciando Diego Milito per quanto riguarda i gol in Nerazzurro in campionato. Un traguardo che L'Otaro raggiunge dopo 145 presenze, mentre Milito ne aveva impiegate 128. Entrambi sono appaiati al tredicesimo posto all time dei migliori marcatori nerazzurri nel massimo campionato. So che Diego è a Milano, sicuramente andremo a cena insieme per festeggiare questo traguardo, le parole di Lautaro nel post partita. Sono contento perché è una grande persona e mi dà tanti consigli. Lavoro sempre a testa bassa per alzare il livello e sono contento di questo. Dedico questo gol a mia mamma e mia moglie perché oggi è la festa della mamma in Argentina. Poi il racconto della partita, siamo sulla strada giusta. Abbiamo giocato una grande gara al camp no e anche se sono competizioni diverse, l'atteggiamento oggi è stato lo stesso e lo abbiamo dimostrato. Nelle prime giornate di campionato abbiamo perso punti importanti e le cose non giravano come volevamo noi. Adesso ci stiamo sistemando, abbiamo parlato tanto tra di noi e ci siamo messi a lavorare tutti insieme e questo è importante. Il mister mi ha aiutato tanto e mi dà fiducia sempre. Quando non segno cerco di aiutare la squadra. A volte non arriva il gol, ma cerco sempre di lavorare per i miei compagni. Molto soddisfatto del risultato anche Francesco Acerbi che ha detto la sua dopo i tre punti conquistati contro la Salernitana. Abbiamo fatto una buona partita, era difficile dopo Barcellona. Però abbiamo avuto un buon approccio. Potevamo fare prima il 2-0, ma comunque abbiamo fatto molto bene oggi. Poi chiude parlando dei suoi primi mesi in maglia nerazzurra. Mi sono ambientato molto bene grazie a tutti. Ringrazio i miei compagni. Mi sono subito trovato bene perché alcuni li conoscevo già. Mi hanno accolto come se fossi qui da anni. Ancora non sono al 100%. Mi trovo bene sia al centro della difesa che a sinistra. Mentalmente però sono sempre pronto e questo è molto importante. Ti è piaciuta la notizia? Lascia il tuo mi piace per aiutare il canale e iscriviti per non perderti nessuna novità dall'Inter. Lascia la tua opinione nei commenti perché per l'Inter è molto importante. A dopo.